Intervenuto agli stati generali della scuola, organizzati da Fratelli d'Italia, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha parlato del presente ma soprattutto del futuro della scuola. Il lavoro per il paese parte dalle scuole, dobbiamo innalzare tutto il livello del sistema educativo nazionale, comprendendo le scuole statali, paritarie e le IFP delle regioni. Punto fondamentale è lavorare sulla sicurezza. La scuola è aperta a tutti, deve essere inclusiva e affettuosa. Gli ITS e l'orientamento sono forti elementi sui quali concentrare la riforma, spiega Bianchi. Abbiamo firmato il patto di comunità a Napoli, partiamo da lì. Sulla dispersione scolastica ci sono dati nazionali che spesso confondono. Abbiamo situazioni disomogenee all'interno dello stesso territorio. Le scuole sono il presidio di legalità e ricomposizione sociale. Il ministro torna poi sul decreto 36 che ha causato lo sciopero dei sindacati previsto il 30 maggio. Reclutamento è una parola che non mi piace, preferisco assunzione. La formazione è il cardine. Il PNRR è il risultato di un confronto molto duro con l'Europa. Ci siamo presi alcuni impegni molto importanti come le assunzioni. Ci siamo impegnati a farne 70.000 entro il 2024. I nostri insegnanti sappiano cos'è il percorso e che ci saranno concorsi con cadenza annuale.